Dopo l'episodio di violenza avvenuto qualche giorno fa, WWF Sicilia attraverso un comunicato ha espresso grande preoccupazione per le condizioni in cui si trovano i boschi del parco dell'Etna e la loro biodiversità e lancia un appello al governo regionale affinché possa essere ripristinata un'azione di contrasto all'illegalità diffusa. Prendiamo spunto da un vergognoso episodio di violenza nei confronti di un cittadino che si è permesso di ricordare ad alcuni motociclisti che nel bosco è vietato circolare con mezzi motorizzati e che per risposta ha ricevuto botte, minacce e quanto di peggiore possa esprimere. I boschi dell'Etna continua il WWF ma anche purtroppo gran parte dei boschi insistenti nei parchi e nelle zone protette siciliani sono devastati da mezzi di ogni genere a due e quattro ruote. Essi entrano nei sentieri in pieno bosco nonostante i divieti di legge tracciando veri e propri solche e distruggendo preziosi habitat naturali che caratterizzano la biodiversità del parco dell'Etna e delle zone naturali protette. Inoltre la presenza di rombanti motori a tutto gas produce un inquinamento acustico di grande impatto per gli animali abitanti il bosco stesso. Come più volte evidenziato e segnalato un bene naturale così prezioso e unico come il parco dell'Etna giorno dopo giorno sta diventando un grande parco divertimenti privo di ogni regola e senza alcun governo delle azioni che in esse avvengono. Auspichiamo che il presidente Renato Schifani sappia dare una svolta di dignità alla nostra bellissima Sicilia, sappia imporre la tutela e la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio naturale sempre più devastato e impoverito da un'idea diffusa del fai da te e dalla mancanza di rispetto delle normative. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!